Per carnevale si mandano tortelli, dolci al limone, prendi uova e farina, lo zucchero, lo yogurt, le patatine, perché, perché, perché? Ancora pochi giorni e sarà primavera. Ma col coronavirus tutto è cambiato, le mascherine, la pandemia e solo i bambini è concesso a sperare come una volta. Per carnevale si mangiano tortelli, dolci al limone, prendi uova e farina, lo zucchero, lo yogurt, le patatine, perché, perché, perché? Ancora pochi giorni e sarà primavera. Ancora pochi giorni e sarà primavera. Grazie. Grazie.